I consiglieri comunali esprimono al Consiglio di Amministrazione dell'ISAC di Bassano il ringraziamento per il lavoro sinora svolto ed esprimono anche la richiesta di rimettere anticipatamente il mandato ricevuto al fine di promuovere il più rapidamente possibile un cambio di rotta, ovvero dimissioni immediate. Tutto scritto nero su bianco nell'ordine del giorno che le minoranze consigliari hanno presentato il 17 di febbraio perché si è inserito nella lista delle faccende da sbrigare nella prossima seduta dell'Assemblea cittadina. Dopo la sfiducia che pare sia stata rifilata allo stesso Consiglio di Amministrazione in una riunione di maggioranza, questo è un altro clamoroso siluro che arriva dopo un periodo di polemiche e tensioni. Da una parte c'è infatti la decisione del CDA di innalzare le rette degli ospiti da 10 euro al giorno fino a migliaia di euro all'anno. Dall'altra la scelta di iniziare un percorso di spubblicizzazione che ha fatto andare su tutte le furie sindacati. In mezzo ci sono oggettive difficoltà per le IPAB e, come riporta il documento protocollato dalle opposizioni, un crescente disagio per gli ospiti, familiari e personale. Oppure tassi di non occupazione definiti preoccupanti che determinano un ingente calo di entrate finanziarie. Insomma, problemi di gestione che per le minoranze sono serissimi e probabilmente lo sono anche per la giunta la maggioranza di Elena Pavan, visto l'interesse riservato all'argomento nelle ultime settimane. Proprio la squadra di governo viene chiamata in causa per risolvere la difficile situazione assieme a questo punto a tutto il Consiglio Comunale.